Siamo con il capitano del Real Sanicandro, Daniele Busco. Daniele, veramente avete dato tutto oggi in questo match contro un avversario molto molto forte. Quasi quasi il Sanicandro riusciva a strappare almeno un punto a questa corazzata. Una partita assolutamente positiva da parte vostra, siete d'accordo? Sì, certo. È stata una partita molto difficile contro una grande squadra, una bella corazzata di squadra. Purtroppo abbiamo dato il massimo anche contro un campo molto difficile. Abbiamo dato il massimo. È stata una partita che ognuno di noi ha dato veramente tutto fino al 95esimo e purtroppo il risultato ci ha penalizzato. Forse non lo meritavamo. 3-1. Un Sanicandro che al di là della sconfitta ha dimostrato ancora una volta che può giocarsela davvero con tutte le squadre e che chiaramente può recitare un ruolo rilevante per tutto il giro di ritorno. Una squadra assolutamente in salute, siete d'accordo? Sì, è verissima questa cosa. Abbiamo un grande gruppo che ogni partita andiamo spensierati alle partite, diamo sempre il massimo e abbiamo grandi risultati. Vedi fino adesso sei vittorie, un pareggio e questa sconfitta amara perché dietro a una grande società, anche piccola però, che dà il massimo, abbiamo formato un bel gruppo. Quindi ci godiamo questo ritorno. Una sconfitta diciamo che comunque è indolore perché la classifica non si è mossa poi tantissimo e comunque avete una grande occasione domenica prossima contro il Foggia in Cedit per riprendervi il bottino pieno che magari non siete riusciti a cogliere quest'oggi. Concordi? Sì, sì. Domenica è un'altra partita, secondo me, ancora più difficile di questa perché hanno bisogno di punti loro e sarà una bella partita tosta e ce l'andiamo a giocare. Quindi domenica vediamo. Grazie Daniele. Grazie a voi. Ciao. Grazie a voi. Grazie.